Prima di immergerci negli avvenimenti intriganti di oggi, vorremmo chiedere il vostro prezioso sostegno. Un gesto semplice, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di straordinaria importanza. Vi ringraziamo di cuore. Nell'arena politica italiana, Giorgia Meloni, la leader carismatica di Fratelli d'Italia, ha scosso le fondamenta con una rivelazione che va oltre i confini della politica. Durante un'intervista esclusiva, Meloni ha tenuto tutti col fiato sospeso, dichiarando di considerare un passo significativo nella sua vita personale, il matrimonio. Questa dichiarazione ha innescato un autentico tornado mediatico, con giornalisti e appassionati di politica che si sono prodigati per scoprire di più su questa svolta inaspettata nella vita privata della leader. Meloni, nota per la sua discrezione riguardo alla sua vita personale, ha sorpreso tutti aprendo le porte a una serie di interrogativi sul suo misterioso partner e sulle possibili implicazioni di questo nuovo capitolo romantico nella sua carriera politica. L'annuncio ha polarizzato l'opinione pubblica. Da una parte, ci sono coloro che lodano la leader per la sua sincerità e il coraggio nel rendere pubblico un aspetto così personale della sua vita. Dall'altra parte, ci sono coloro che si domandano come questo matrimonio possa influenzare il suo percorso politico. In attesa di dettagli più specifici e di dichiarazioni ufficiali, il mondo è in trepidante attesa. Il gossip sul futuro matrimonio di Giorgia Meloni tiene tutti con il fiato sospeso, dimostrando che nel mondo della politica, le sorprese possono nascondersi dietro ogni angolo, pronte a emergere quando meno ci si aspetta. E tu? Cosa ne pensi di questa notizia? Scrivilo nei commenti. E non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato. Resta con noi, perché il mondo della politica italiana continua a riservare sorprese che tengono la nostra attenzione incollata allo schermo.